I cimiteri sono luoghi del ricordo, ricordo di persone che furono, che vissero, che amarono ed in questo caso che diedero vita alla loro arte. Un'arte che ha lasciato il segno, un segno forse oggi non più facilmente visibile, ma che nel loro tempo diedero una direzione, un'interpretazione, una voce all'arte. Così oggi vi porto con me in uno dei cimiteri monumentali di Firenze, il Cimitero delle Porte Sante, ovvero il cimitero adiacente alla Basilica di San Mignato al Monte. Si tratta di un luogo particolare, dove l'arte traspare non solo dagli illustri nomi che vi riposano, ma anche dall'alto valore artistico dei monumenti, vere e proprie opere d'arte immerse in un religioso silenzio, dove la pace regna sovrana. Il tutto contornato da un panorama mozzafiato accanto alla splendida Basilica Romana, dove si può ammirare la bella Firenze da un luogo di sepoltura per personaggi illustri ed elezione risalente al 1848. Prima di iniziare la nostra visita vi suggerisco di fare particolare attenzione agli orari di apertura. Talvolta infatti subiscono delle variazioni e se desiderate visitare l'abbazia fatelo come prima cosa perché gli orari dell'abbazia non coincidono con quelli del cimitero e dunque rischiereste a fine giro di trovarla chiusa. Vi preavviso inoltre che anche seguendo la cartina può risultare non semplice trovare i vari luoghi di sepoltura, ma li riconoscerete facilmente con il video a livello visivo. Detto questo il nostro tour ha inizio dalla scalinata principale che porta all'abbazia. Saliamo solamente il primo tratto della gradinata e svoltiamo immediatamente a sinistra nel settore piazzale Fontana. Immediatamente alla nostra sinistra vediamo la sepoltura della famiglia Zeffirelli e dunque anche quella del celebre Franco Zeffirelli. Innumerevoli le sue regie liriche nei più grandi teatri d'opera al mondo ed indimenticabili sicuramente anche i suoi meravigliosi film d'opera. Con lui troviamo altri due grandi artisti fiorentini, amici per sempre. La costumista e scenografa italiana Anna Anni che collaborò in innumerevoli occasioni proprio con Franco Zeffirelli ma anche con l'attrice Valentina Cortese e il soprano Sutherland. Lei lavorò nei maggiori teatri d'Italia come il maggio musicale fiorentino, la Fenice di Venezia, il teatro dell'opera di Roma, il teatro massimo di Palermo ma lavorò moltissimo anche all'estero come ad esempio il Covent Garden di Londra. Lei lavorò non solo nell'ambito del teatro e dell'opera ma anche per il balletto disegnando in più occasioni scene e costumi ad esempio per Carla Fracci e Rudolf Nureyev. Con lei troviamo anche Piero Tosi, costumista. Lui vestì i più grandi divi del cinema italiano, oltre a quelli della prosa e a della lirica. Lui collaborò anche con Lucchino Visconti. Piero Tosi lasciò il segno anche nella lirica, ad esempio nella Sonnambula e Macbeth. Suoi sono i costumi del film traviata con la regia di Zeffirelli con Teresa Stratas e Placido Domingo. Proseguendo il percorso, nello stesso settore poco più avanti, proprio sulla destra, prestiamo attenzione a questa sepoltura di famiglia. Qui riposa Caroline Unger con il marito. Caroline o Carolina Unger fu una grandissima cantante della prima metà dell'Ottocento. Lei inizialmente si dedicò al repertorio di mezzo soprano e contralto, per giungere poi al repertorio del soprano drammatico. Lei fu la prima interprete nelle prime esecuzioni assolute delle opere di Donizetti, Parisina, Belisario e Maria di Rudenz, la prima interprete della straniera di Bellini e inoltre di diverse opere di Mercadante e Pacini. Lei cantò davvero nei più grandi teatri d'Italia e con i più grandi cantanti della sua epoca. Parliamo di Maria Malibrand, Giuditta Pasta e ad esempio anche Luigi Lablanche. Lei si sposò con lo scrittore francese François Sabatier, con cui oggi riposa. Proseguiamo il nostro percorso sempre nello stesso settore. Non salite le scale alla vostra destra, ma dirigetevi invece verso la fine. E lì, nella parte centrale, sulla destra, troverete la sepoltura di Pietro Scarpini. Lui fu un pianista dalla notevole carriera concertistica. Lui suona con i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la London Philharmonic Orchestra e lavorò con grandissimi musicisti e direttori d'orchestra, quale ad esempio Furtwängler e Busoni. Ora torniamo indietro a quelle scalette che avevamo visto prima. Saliamo nel settore successivo ed entriamo nella stanza passaggio che troviamo proprio sulla destra, per accedere così al bastione nord-est. Appena entrati nel settore, girate completamente a destra e lì. Tra molte altre sepolture, proprio al ridosso del muretto, troverete la sepoltura di Alan Curtis. Alan Curtis fu un clavicembalista, musicologo e direttore d'orchestra statunitense specializzato in opera barocca. Lui incisa al clavicembalo molta musica di Bach e Rameau. Si dedicò anche all'opera lirica, proprio del periodo da Monteverdi a Mozart, ricostruendo quello che storicamente doveva essere l'organico strumentale e le coreografie originali. Dobbiamo a lui la riscoperta di numerose opere del barocco, soprattutto opere di Handel. Ora ci voltiamo e proseguiamo sempre in questo settore, dove nel blocco di sepolture centrali sulla destra troviamo più o meno al centro la sepoltura di Massimo Freccia. Massimo Freccia fu un direttore d'orchestra italo-americano. Lui fu per diversi anni assistente di Arturo Toscanini e durante i suoi studi a San Pietroburgo ebbe occasione di incontrare Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov. Conobbe e frequentò artisti quali Stravinsky, Picasso, Rubinstein, Ravel, Kodai, Bartók e Gershwin. Il suo repertorio di predilezione era la musica sinfonica piuttosto che l'opera. Lui diresse le più grandi orchestre sinfoniche del suo tempo, la New York Philharmonic, la London Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra e molte molte altre. Sempre in questo settore, poco più avanti, sulla parete di destra, troviamo invece la sepoltura di un altro musicista, non segnalato sulla cartina. Si tratta del compositore Litterio Butti. Lui visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e, oltre ad essere un illustre latinista e filosofo, si dedicò anche alla composizione. Parliamo di una copiosa produzione di musica da camera e religiosa. Soprattutto in ambito musicale e religioso, si distinse per delle composizioni, tra cui troviamo Paternoster, Sanctus, Ave Maria, Tantumergo e diverse messe, che furono ampiamente apprezzate dai papi Benedetto XV e Pio XI. Butti scrisse anche delle opere, tra cui Omonizza, opera in tre atti ambientata nella Sicilia del XIX secolo durante le invasioni saracene e che fu rappresentata al Teatro Reale del Cairo. Sulla stessa parete, semplicemente più sotto, troviamo la sepoltura di Clelia Arcella, pianista che tene numerosi concerti e svolse inoltre un'intensa attività didattica a Firenze. Lasciamo ora il bastione nord-est per recarci nell'area successiva, ovvero l'area campanile. Entrate nell'area, svoltate a sinistra e troverete la prossima sepoltura alla vostra destra. Qui riposa Clemente Terni, compositore, organista e musicologo. Lui nel 1950 fondò il Quartetto Polifonico Italiano, che in seguito divenne quintetto e svolse un'intensa attività concertistica in Italia e in Europa. Come compositore scrisse musica sacra, da camera, per pianoforte e per organo. Si dedicò inoltre all'attività di musicologo, specializzandosi nella musica barocca, medievale e del Rinascimento. Insegnò inoltre nei conservatori di Perugia e Firenze, formando così diverse generazioni di musicisti e di musicologi. Lasciamo ora l'area campanile e ci dirigiamo nell'area Vecchia Galleria. Giunti nella Vecchia Galleria procediamo diritti e ci dirigiamo proprio verso il fondo. E alla nostra destra troviamo la sepoltura di Alfonso Fedi. Alfonso Fedi fu un famoso organista e clavicembalista. Lui ebbe un'intensa attività concertistica alla quale affiancò numerose revisioni critiche, come per Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi e Il martirio di San Lorenzo. Svolse inoltre un'intensa attività didattica presso la scuola di musica di Fiesole e ai conservatori superiore di Ginevra e Cherubini di Firenze. Ora proseguiamo lasciando la sepoltura di Alfonso Fedi alla nostra sinistra. Proseguiamo avanti e sulla destra troviamo invece la sepoltura di Narciso Parigi. Narciso Parigi fu cantante e attore della scuola degli Stornellatori Toscani. Lui fu tra gli anni 40 e 50 una delle voci più amate della radio. Nel 55 partecipò a Sanremo con Claudio Villa. Lui incise oltre 5.000 canzoni e collaborò con numerosissimi artisti, tra cui Frank Sinatra. Ora ci dirigiamo a sinistra della sepoltura e giriamo subito a destra. Qui si trova la sepoltura di Marietta Piccolomini. Marietta Piccolomini fu un famoso soprano della seconda metà dell'Ottocento. Iniziò la sua carriera in Italia, a Roma, Pisa, Torino, fino a raggiungere una grande fama anche all'estero, come a Londra, Dublino e Parigi. Tra i suoi cavalli di battaglia ricordo Lucia di Lammermoor, la figlia del reggimento Traviata Sonnambula. Lei fu una cantante dalle spiccate doti drammatiche, aveva infatti delle grandi doti attoriali. Verdi stesso, presente ad una sua recita di Traviata a Parigi, ne fu soddisfatto dell'esecuzione, lamentando però che la tosse sembrava fin troppo reale. Lei si esibì anche nelle maggiori città degli Stati Uniti. Il compositore Luigi Arditi scrisse proprio per lei la sua celebre romanza Il Bacio. Proseguiamo ora a diritti e giriamo subito a sinistra, proseguendo fino in fondo. Qui troviamo la sepoltura di Odoardo Spadaro. Odoardo Spadaro fu cantautore, attore e cabarettista. Lui esordì al termine della Prima Guerra Mondiale con la Ninna Nanna delle Dodici Mamme, una presa di posizione contro la guerra appena terminata, e divenne famoso anche per le sue parodie, tra cui il pianista nordamericano, wagneriano nevrastenico e teatro lirico. Ora dirigiamoci verso destra. Lasciamo questo settore e attraversiamo il settore seguente, il Viale Longinotti, per dirigerci nel settore pian disco. Teniamo completamente la sinistra e proseguiamo proprio fino al fondo. Sul fondo, alla parete di sinistra, troviamo la sepoltura di Riccardo Marasco. Riccardo Marasco fu un cantautore italiano e menestrello vernacolare fiorentino. Il suo genere era più improntato verso il cabaret. Lui collaborò con artisti quale Modugno, Lionello e Graziosi. Ora invece giriamo a destra. Qui, tra le sepolture e la parete, troviamo quella di Lazar Biermann. Lazar Naumovic Biermann fu un pianista russo che ebbe una notevolissima carriera concertistica internazionale. Lui tenne concerti in tutto il mondo, collaborando con i più grandi direttori d'orchestra al mondo, tra cui Herbert von Karajan. Numerosissime sono le sue incisioni discografiche per le maggiori case discografiche internazionali. Ha svolto inoltre un'importante attività di insegnamento presso l'Accademia Musicale di Firenze. Proseguiamo ora alla nostra destra e poco più avanti, sempre alla parete, troviamo la sepoltura di Salvatore Allegra. Salvatore Allegra fu un compositore e direttore d'orchestra. Fu allievo di Francesco Cilea e compose diverse operette, tra cui la più celebre Il Gatto in Cantina. Scrisse inoltre anche per l'opera lirica, tra cui Ave Maria, opera che andò in scena alla Scala di Milano nel 1934, e ne scrisse oltretutto diverse altre. Scrisse anche musica cinematografica, all'incirca una ventina di colonne sonore. Ora proseguiamo alla nostra destra, arriviamo fino in fondo e ci dirigiamo a destra, a sinistra e nuovamente a destra. Proseguite diritti fino alla fine del gruppo di sepolture. Lì, alla vostra destra, trovate la sepoltura di Jefte Sbolci. Jefte Sbolci fu un famoso direttore d'orchestra e violoncellista della seconda metà dell'Ottocento. Lui fondò la società orchestrale fiorentina che diresse per molti anni. Fu il fondatore anche di un trio strumentale e dello storico quartetto fiorentino. Lui si dedicò anche ad un'intensa attività didattica, lasciando così la sua eredità musicale ed artistica ad eccellenti musicisti, quali Ottavio Di Piccolellis ed Egisto Dini. Proseguiamo ora alla nostra destra e saliamo così alla nostra sinistra le scalinate per raggiungere il settore montagnola. Saliti sul settore andiamo proprio verso il fondo e lì svoltiamo a destra, dove alla nostra sinistra troviamo la sepoltura di Antonio Scontrino. Antonio Scontrino fu un compositore e contrabbassista che visse a cavallo tra Ottocento e Novecento. Oltre al successo ottenuto quale contrabbassista e docente, lui si dedicò anche alla composizione di musica sinfonica da camera. Scrisse sinfonia marinaresca e sinfonia romantica ed inoltre anche molta musica da camera e musiche di scena per la Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio. Lui però si dedicò anche all'opera lirica. Scrisse infatti Matelda e La Cortigiana. A lui è dedicato il Conservatorio di Trapani, città di cui Scontrino era originario. Ora proseguiamo alla nostra destra e giunti in fondo giriamo nuovamente a destra. Lì alla parete alla nostra sinistra troviamo la sepoltura di Daniele Lombardi. Daniele Lombardi fu pianista, compositore ed artista visivo, uno degli esponenti delle avanguardie storiche del Novecento, interprete della musica futurista italiana e russa. Lui fu un promotore dell'idea multimediale nell'arte, ha prodotto disegni, dipinti ed opere grafiche digitali ed audiovisive che sono il risultato della conversione in immagini di un pensiero musicale. Ora lasciamo questo settore, ridiscendiamo le scale da dove eravamo saliti e ci troviamo nel settore Viale Coveri. Proseguiamo diritti e svoltiamo poi alla nostra sinistra. Lì alla nostra destra troviamo la sepoltura di Guido Salvini. Guido Salvini fu un famoso regista e scenografo del Novecento. Lui era il nipote del grande attore teatrale Tommaso Salvini, che riposa accanto a lui nel mausoleo di famiglia. Guido Salvini fu regista di ben 147 spettacoli di prosa, 125 opere liriche, 4 perette, 10 balletti, 4 pantomime e 6 film. Nel 1932 fu nominato direttore del Festival Musicale di Venezia e fu responsabile inoltre della prosa del primo omaggio musicale fiorentino. Ricordiamo anche una sua regia di Falstaff a Salisburgo sotto la direzione di Arturo Toscanini. Lui diresse anche la Compagnia del Teatro Nazionale, lavorando con attori quali Vittorio Gasman e Giorgio Albertazzi. Ora ci voltiamo e alle nostre spalle troviamo la sepoltura di Aldo Valleroni. Aldo Valleroni fu compositore, paroliere e giornalista. Nato nell'ambito della musica jazz, si dedicò alla musica leggera, tra cui ricordo la sua famosissima Una rotonda sul mare. Si dedicò inoltre anche a sostenere nuovi talenti emergenti, tra cui Jimmy Fontana ed Edoardo Vianello. Ora proseguiamo diritti ed entriamo nel settore Pozzo. Qui, alla nostra sinistra, troviamo la sepoltura di Ugalberto De Angelis. Ugalberto De Angelis fu musicista e compositore e fu allievo di Luigi Dalla Piccola. Lui fu un compositore che si dedicò principalmente alle composizioni di tipo cameristico, sinfonico, vocale e teatrale. Fu inoltre professore d'orchestra al Teatro Comunale di Firenze, suonava il corno, e fu autore di diversi saggi. Le sue composizioni ebbero un ottimo riscontro anche con direttori famosi, come ad esempio Riccardo Mutti, che diresse una sua suite da musiche liutistiche a Filadelfia. Ora svoltiamo a destra e una volta raggiunto il viale alberato giriamo a sinistra. Qui troveremo delle scale a scendere per entrare nella nuova galleria. Purtroppo io la galleria l'ho trovata chiusa. Ma qui troverete la sepoltura di Paolo Poli, attore, regista teatrale e cantante. Dedito al genere di musica leggera e cabaret, ebbe un'intensa attività teatrale e incise anche alcuni dischi quale cantante. Da ricordare le sue registrazioni di Prokofiev, Pierino il lupo, Genevieve de Beraban, operetta di Offenbach con Mariella de Via, e Al cavallino bianco, operetta di Benazchi. Ora usciamo da questo settore e percorriamo tutto il viale alberato, entrando così nuovamente nel settore coveri. Alla fine del viale giriamo a sinistra e proseguendo diritti, alla nostra destra troviamo la sepoltura di Girolamo Pagliano. Girolamo Pagliano fu per un periodo un impresario teatrale che acquistò a Firenze un palazzo che adibì nel 1854 a teatro, chiamato infatti Teatro Pagliano, dal 1901 conosciuto invece come Teatro Verdi. Il teatro fu inaugurato proprio con il rigoletto di Giuseppe Verdi, ma purtroppo nel 1865 il teatro fu devastato da un incendio e Pagliano fu costretto a venderlo. Qui termina la nostra visita. Purtroppo mancano all'appello altri artisti di cui non sono riuscita a trovare la sepoltura. Il soprano Yolanda Meneguzzer e Francesco Nuti, che oltre ad essere stato dedito al cinema, fu anche cantante. Chiedo dunque a chiunque di voi abbia informazioni su dove si trovino esattamente le loro sepolture all'interno di questo cimitero, di segnalarmelo, magari inviando se possibile una foto della sepoltura, in modo da poter inserire anche questi artisti nel video, in modo che anch'essi, o altri che non ho citato, possano essere giustamente omaggiati per il loro importante contributo all'arte musicale. Camminando tra questi cipressi, tra queste sculture, tra tutte queste memorie, si percepisce un luogo dove meditare sulla brevità dell'esistenza e sull'importanza di dare ad essa un significato che possa durare oltre la vita. Questi artisti, legati alla musica, hanno donato con la loro arte bellezza al mondo, una bellezza che nel grande o nel piccolo ha segnato una storia di cui possiamo ancora assaporarne l'eco. Vi abbiamo ricordato in questa breve visita. Un grazie per tutto ciò che ci avete donato. Grazie a tutti.